Buonasera a tutti e benvenuti. Qualche giorno fa il Tribunale di Brescia, con una sentenza sicuramente destinata a fare giurisprudenza o comunque a creare discussione, condannava l'allevamento Green Hill di Montichiari nella persona del gestore, nella persona del veterinario ad un anno e mesi sei di reclusione, mentre ad un anno di reclusione veniva condannato il direttore dello stabile. I reati che sono stati contestati sono reati introdotti recentemente anche nel nostro codice penale e che riguardano l'uccisione di animali, il 544 bis ed il 544 ter del codice penale che riguardano il maltrattamento di animali. La vicenda ha assunto contorni e rilievo nazionale proprio per il grande numero di animali ritrovati uccisi, parliamo di oltre 6.000 cani di razza Beagle e per quelle che sono state le modalità di allevamento di questi animali in palese violazione di tutte le buone e sane regole che comunque devono essere adottate anche quando si tratta di allevare animali destinati alla sperimentazione. Ovviamente tutti attendono il deposito delle motivazioni di questa sentenza che dentro 60 giorni meglio illustreranno i contorni e i dettagli, la razio e le ragioni che hanno portato il Tribunale di Brescia a condannare i responsabili di questo stabilimento. Le associazioni ambientaliste sono sul piede di guerra proprio per una battaglia che da anni avevano proclamato contro questo stabilimento ed in generale contro tutti quelli che sono i criteri che vengono adottati quando appunto ci si trova ad allevare cani destinati alla sperimentazione. Non veniva messa in evidenza o venivano comunque censurati degli episodi occasionali quali la bastonatura, quali il maltrattamento di alcuni animali, ma in realtà veniva evidenziato un persistente stato di abbandono di questi animali dal punto di vista della loro vita sociale, quindi il fatto di non potersi muovere, il fatto di soffrire il caldo all'interno dei capannoni, il fatto di essere in promiscuità, il fatto di morire di malattia senza ricevere alcuna cura, il fatto comunque di così essere destinati o addirittura non curati in caso di malattia proprio perché le terapie di cura avrebbero alterato i parametri poi per la successiva sperimentazione. Sono tante le motivazioni e da tutto questo si aggiungerebbe sempre a detta di quella che è stata l'accusa un comportamento omissivo o comunque un comportamento superficiale da parte di coloro che avrebbero dovuto controllare e dallo stesso modo un'incompletezza di quello che poteva essere il registro verbale dello stabilimento dell'allevamento nell'indicare le condizioni degli animali, il loro stato e comunque le date ed il numero dei decessi. Sono questioni piuttosto inquietanti se soltanto tutti noi pensiamo al calore e all'affetto che ricerchiamo negli animali, ricerchiamo nei cani in questo caso che da sempre sono i primi che ci accolgono con affetto a prescindere da quella che può essere la nostra giornata e che sono sempre pronti a dispensare affetto al loro padrone in qualunque stato ed in qualunque situazione. È un argomento difficile per quelli che saranno i futuri sviluppi, le battaglie sono sempre state tante e di battaglie ce ne saranno ancora, il confine fra lo stabilire quale possa essere il comportamento adatto anche in strutture dove l'allevamento di questi cani è destinato alla sperimentazione e il punto dal quale possa poi invece iniziare una sorta di reclusione, quasi una sorta di lager per piccoli animali, è veramente molto difficile da ritrovare. Questa è una prima sentenza, si unisce ad altre sentenze, è destinata a fare storie, è destinata a far discutere, attendiamo le motivazioni per meglio comprenderne anche le ragioni ed eventualmente per poterne condividere i presupposti e quello che poi sarà lo sviluppo futuro per tutti gli allevamenti di questo tipo e dimensione. Grazie. Grazie.